Adesso, portate i fianchi in neutro, ok? Le spalle sono sollevate, le gambe sono sollevate, gió? Uno, due e cambio. E cambio, trattenendo proprio i vostri fianchi, non farli muovere, non inarcare la schiena. E controllo. Ok. Ancora 45 secondi, continua. Vai, vai. E controllo. Guarda l'ombelico, ok? Guardate il vostro ombelico. Trattenendo sempre l'abdome, ok? Ancora 30 secondi, continuiamo. Vai. Controllo. Abdominari tesi. E tesi. Vai, vai. Ancora 20 secondi, più o meno. Continuiamo. Se ti dà fastidio il collo, potete tenere una mano indietro la nuca e l'altra che segue le gambe. Ok? Ancora. Trattengo. Ancora. Quattro. Tre. Due. E relax. Passiamo al prossimo esercizio. Mettetevi subito in posizione per la plancia laterale. Invece questa è una nuova plancia laterale, in quanto portiamo in avanti il fianco. Ok? Da sotto una torsione in avanti. In avanti. Tiro. Abdominari tesi. Una bella torsione. In avanti. Ancora. Tiro in avanti. Ah, sì. Ok. Siamo a 20 secondi. Se dovete interrompere, interrompete le minute che riuscite a buttarvi nella mischia, fatelo. Allora, recuperare va bene, ma non utilizzarlo come scusa per non ricominciare. Ok? Ancora. Ci siamo giù a 25 secondi. In avanti. In avanti. Sollevi. Sollevi e spingi in avanti. Ok? Continui. Vai, 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 vai. Abdominali tesi. Senti il lavoro sulla plancia. Ci mancano ancora. Dieci secondi da adesso. Continui. Continui. Dai, anche se ti sei recuperato, appreso il recupero, buttati nella mischia per l'ultima. Tre. Due. Uno. Cambiamo esercizio. Andiamo dall'altra parte. Subito sollevo. Ok? Minuto da adesso. Portando in avanti il fianco interiore. Ok? Porto in avanti. Porto in avanti. Ok? E la cosa importante quando lavori all'abdominali è di dare il meno recupero possibile. Ok? L'abdome lavora sempre. E devo dire che se allenate tutti i giorni addominali, i risultati non tarderanno a farsi vedere. Ok? A arrivare. Chi dice che serve soltanto la dieta sull'addome? Sto dicendo frottole. Perché se ti è lena e l'addome, l'addome si scolpisce. Ok? Ovvio. Anche l'alimentazione incide, ragazzi. Però se non fate mai addominali, come potete pensare che questo grande gruppo si rassoda. Ok? Mi piace tantissimo. Tantissimo mi piacciono le plance perché le plance mi permettono di lavorare senza strassare il collo e la schiena. Continuiamo. Dai. In avanti con quel fianco. In avanti con quel fianco. Continuiamo. Dai, dai, dai. Dai, dai, dai. Spingo in avanti. Spingo in avanti. Tira. Tira. Ultime dieci secondi. Vai, vai, vai. Dieci. Ancora. E l'ultima cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. And relax. Passiamo sul prossimo esercizio. Altro esercizio. Incrocia la gamba sopra l'altra. Ok? E solleva l'altra gamba a squadra a 90 gradi. E chiudiamo. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Mantieniti in centro. Tieni la posizione. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Di nuovo in chiusura. Otto. Scusate, mi sposto poco a poco perché c'è un sasso sotto la schiena. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Trattieni in centro. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Ottimo. Otto. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Mantenete la posizione. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. E cambio lato. Ok. Cambio la gamba. Solleva sempre nel modo uguale. E continuiamo. Otto. Sette. Sei. Cinque. Tiri sulle fianche. Tre. Due. In centro. Trattengo. Spale e fianchi proprio chiusi. Ok? Ancora. Quattro. Tre. Due. Di nuovo. Andiamo. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Trattengo in centro. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Ottimo. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Trattengo in mezzo. Ottimo. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. And relax. Andiamo sul prossimo esercizio. Mettete le mani sotto le latiche. Ok? Tenete e sollevate le spalle. e flettete le gambe, ok? Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Relax. Ricupero. Tre. Due. Uno. Ricominciamo. Scendiamo. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Relax. E... Tiriti su. Ricupero. Tre. Due. Uno. Continuiamo. Scendiamoci. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Relax. E su. Fantastici ragazzi. Ci siamo quasi. Tre. Due. Uno. Ricominciamo. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. E relax. Eccellente. Passiamo sul prossimo esercizio.